Oggi riceve la dottoressa Claudia Felici, ma più che ricevere me riceve voi, quindi le vostre domande alle quali darà delle risposte e continuate a scriverci. Buongiorno dottoressa, io inizierei proprio rispondendo alla domanda che ci ha inviato il signor Roberto da Salerno che le chiede, ho sempre un raschietto alla gola, da cosa può dipendere? Dottoressa, perché ci viene questo mal di gola? Quali sono le cause? Chi è il colpevole? I colpevoli possono essere tanti, ovviamente i mali di stagione, questa è la stagione delle forme virali respiratorie dall'influenza ad altri virus respiratori, lo stesso Covid, e quindi il mal di gola classico, quello un po' più forte può essere dovuto a un'infezione batterica. Il raschietto invece magari può essere dovuto ad altri fattori a fatti allergici, a un reflusso gastroesofageo per esempio, a un'irritazione ambientale, a dormire in un ambiente troppo caldo o troppo secco, usare anche troppo la voce può dare questa sensazione di dolore e di raschio alla gola. Allora dottoressa, noi adesso diamo una piccola ricetta, più che noi la dà la nostra amica Angelica Amodei che è esperta di salute e benessere, proprio per una soluzione al mal di gola. Vediamola insieme. Buongiorno a tutti, in questo periodo tossetta, mal di gola, raffreddore, senso di costipazione, ho pensato ad una tisana che racchiude insieme tutti quegli aiuti naturali che possono fare al caso nostro in questo periodo e ho scelto il timo, il sambuco, il sambuco è noto da secoli proprio per le sue proprietà alleate del nostro sistema immunitario e poi lo zenzero. Anche lo zenzero è un grande alleato di tutti quei disturbi della gola. Per preparare la tisana intanto iniziamo a prendere lo zenzero e tagliamo due o tre fettine, le sbucciamo, le mettiamo a bollire nell'acqua per circa 5-6 minuti. Prendiamo un cucchiaino da caffè di timo e un cucchiaino da caffè di sambuco. Ora uniamo l'acqua bollente alla nostra tisana. Fate scivolare anche lo zenzero mi raccomando, coprite subito e lasciate in infusione per almeno 5-6 minuti. La versiamo in una tazza ed è pronta da bere. Grazie alla nostra Angelica. Allora, dottoressa, questo rimedio naturale molto probabilmente ci può aiutare a stare un tantino meglio, ma se una bevanda calda non basta e quindi il nostro mal di gola persiste, che cosa dobbiamo fare o che cosa possiamo fare? Beh, dipende se ci sono altri sintomi di accompagnamento, quindi se uno è anche raffreddato, se ha un sintomo di tipo influenzale, allora probabilmente si tratta di un'infezione molto probabilmente virale e in quel caso si possono prendere dei palliativi, degli antinfiammatori per sedare un pochino il dolore, anche localmente, cioè fare i classici colluttori o gli spray locali che possono aiutare anche lo stesso paracetamolo, le sostanze balsamiche, dei fumenti e naturalmente evitare di fumare se uno ha purtroppo questa abitudine. Beh, certo. Allora, dottoressa, lei intanto resti con noi, noi ci dobbiamo fermare per una brevissima pausa pubblicitaria, ma non solo con la dottoressa continueremo a parlare più tardi di un argomento che vi riguarda molto, cioè il come dormire bene e abbiamo anche delle testimonianze raccolte tra voi, anche qualcuna divertente, poi lo vedremo insieme e subito dopo la pubblicità rientreremo parlando di un fastidioso problema, soprattutto femminile, ma non solo, che sono le smagliature e vedremo un trattamento per poter porre rimedio. Tutto questo dopo una brevissima pausa, restate con noi, ci vediamo tra pochissimo. Siamo nuovamente in compagnia della dottoressa Claudia Felici, medico di famiglia, che risponderà e continuerà quindi a dare le risposte alle vostre domande cercando di togliere tutti i dubbi. Io ripartirei proprio dalla domanda che ci ha inviato la signora Vittoria da Agrigento. Ho invertito il giorno con la notte, ci scrive. La sera non dormo, come faccio? Ora dottoressa, questa è veramente la domanda delle domande, perché spesso invochiamo Morfeo ma non riesce ad arrivare. E allora, prima di rispondere, vediamo cosa ci hanno risposto gli italiani, cosa fanno gli italiani per dormire meglio? A venire che? Dormo tre una notte. Ormai non so quanti anni so che prendo la pastiglia per dormire. Purtroppo il problema mi è venuto fuori con i problemi del bagno. Inizio a girarmi, rigirarmi e mi nervosisco sempre di più quando dormo. Eppure chi va a dormire prendendo un caffè dorme pure bene. E sì, buonanotte. La melatonina è ottima. La valeriana. E anche la camomilla. Rilascia i muscoli. Diceva pure Garosone, ma la vecchia camomilla. Sono diabetico, le conseguenze non si attenta a tutto. Guarda, io dormo con la radio accesa. La televisione mi concilia il sonno, sì sì. Non riesco a finire uno spettacolo. Al contai pecore non ci ho mai provato. Ma dormito prima. Qualche volta faccio un sudoku. Io vorrei che tutti dormissero. Ma te che fai, dormi a notte? Figlia della pastiglia, sientami. Allora, dottoressa, sono simpatici i nostri amici che rispondono la pennichella, quell'altro ha risposto che guarda la tv, un altro ancora usa la melatonina. Ma tutti questi sono dei rimedi che possiamo considerare validi o sempre validi? Sicuramente sono validi, nel senso che prima di tutto se c'è un problema di insonnia bisogna cercare di favorirlo il sonno prima di arrivare a prendere dei veri e propri farmaci. Quindi vanno bene questi rimedi che abbiamo sentito. Va bene un pochino di igiene del sonno, cercare di andare a letto sempre alla stessa ora, cercare di non fare attività fisica prima di andare a dormire, non bere il caffè la sera, per esempio, e cercare di mangiare leggero. Cioè tutte quelle cose che possono favorire il sonno e l'avvio del sonno. Quindi anche questi piccoli rimedi possono essere utili prima di arrivare a qualsiasi altra terapia più importante. Più importante. Allora, dottoressa, rispondiamo anche ad un'altra telespettatrice, Caterina, che ci ha scritto da una settimana, ho un dolore intercostale al lato destro, quando cammino e respiro, ancora non passa, è normale? Possiamo aiutare Caterina? Quale può essere il rimedio? Diciamo che i dolori intercostali sono un bel problema, è anche piuttosto frequente e quando se il dolore è forte e non ancora non abbiamo capito quale possa essere la causa, la cosa più semplice è sempre prendere un antidolorifico molto molto semplice come il paracetamolo. Il dolore intercostale intendiamo, diciamo, questa parte alta del torace, sia a destra che a sinistra, a volte anche da tutte e due le parti, ed è un dolore un pochino piuttosto fastidioso perché il nostro torace è molto innervato, c'è un nervo ogni singola costola e quindi è particolarmente sensibile. Quindi non c'è un unico rimedio? Ci sono più cause? Ci sono più cause e quindi poi eventualmente più rimedi, quindi ci sono sia le cause muscolari, quelle più semplici, cioè da posizione, uno può anche aver dormito male durante la notte o avere tenuto una posizione sbagliata durante il giorno, oppure avere avuto una contusione, cioè il dolore da frattura costale, chi l'ha avuto lo riconosce e lo ricorda benissimo. Ci sono i dolori dovuti all'herpes zoster, il famoso fuoco di Sant'Antonio, che spesso colpisce un nervo intercostale e a volte il dolore invece è di provenienza dallo stomaco, cioè una dilatazione eccessiva dello stomaco, un reflusso, un esofagite, possono simulare un dolore intercostale. E quando è il momento di rivolgersi allo specialista, dottoressa? Quando il dolore diventa un campanello d'allarme? Quando il dolore è improvviso, è troppo forte, soprattutto sul lato di pertinenza cardiaca, oppure se è un dolore che non passa, oppure se ci sono le manifestazioni cutanee che possono far pensare a un fuoco di Sant'Antonio. Allora, dottoressa, io penso che i nostri telespettatori hanno ricevuto qualche risposta, ma se hanno ancora dubbi continuate a scriverci, mi raccomando, attraverso i nostri canali social e la nostra email. Grazie alla dottoressa Claudia Felici.